Il tema Land e Soil Ricordo le discussioni fatte con molti dei presenti ma anche con altri, con Paolo Pileri, con Federico Oliva, anche con altri docenti del Politecnico, Arturo Lanzani, Camagni, che hanno portato ad uscire con questa espressione, l'osservatorio sul consumo di suolo, che poi è diventato centro di ricerca, e lo stesso concetto di consumo di suolo. Uno può dire, vabbè, ormai è acquisito, non fu scontato allora, è proprio una questione, anzi, mi ricordo abbastanza feroci e cattivelle, polemiche, sul fatto che noi uscissimo con un'espressione come consumo di suolo, ci diciamo, no, bisogna parlare di consumo di territorio, non bisogna parlare di consumo di suolo. Fu una scelta deliberata quella di parlare di consumo di suolo, non semantica, ma una scelta proprio di dire, noi vogliamo puntare l'attenzione non soltanto su quello che è il livello superficiale, ma metterci le mani dentro. Acquisire pienamente il significato del suolo come comparto ambientale. Ricordo ancora, io sono milito da tempo in un'associazione ambientalista, fino a una decina d'anni fa, quando noi ambientalisti facevamo dei ricorsi alla giustizia amministrativa, contro scelte urbanistiche devastanti, molte volte venivamo semplicemente esclusi, ci si diceva, le questioni urbanistiche non sono questioni ambientali, voi siete un'associazione di protezione ambientali e quindi non avete titolo a pronunciarvi sulle scelte urbanistiche. Queste cose per fortuna fanno parte del passato, anche perché sono intervenute modifiche legislative, anche da noi suggerite, non sulla parte, sulla legislazione urbanistica, nota bene, sulla legislazione agricola della Lombardia, che hanno attestato che il suolo ha un significato ambientale ben preciso e un significato di bene comune. Da allora anche i giudici, quando si entra nel merito delle scelte urbanistiche, accettano di buon grado il punto di vista delle associazioni di protezione ambientale. E fu una discussione animata, appunto perché mi ricordo che parlare di suolo sembra quasi una roba di destra, parlare di territorio di sinistra, ricordo cose di questo genere, e non negli anni 70, ma parlando di decenni o fa, anche in ambienti, ricordo la memorabile adunata spontanea che avvenne a Cassionetta di Lugagnano, che è detta la nascita al Movimento di Salviamo il Paesaggio, anche in quelle sedi, insomma, la questione è solo a territorio, fu una questione rilevante. Io penso che abbiamo fatto bene a intestardirci sul concetto di consumo di suolo, penso che alla lunga alcuni obiettivi che ci eravamo dati, oggi dobbiamo anche apprezzarli come raggiunti, uno dei primi obiettivi fu quello di dire, se approcciamo al suolo e al territorio, con una visione di tipo ambientale, la prima cosa da fare è avere grandezze ambientali misurabili. Allora non c'erano, non era possibile, se non su larga maglia o con livelli di risoluzione molto insoddisfacenti, avere cognizione del danno ambientale e delle trasformazioni anche metriche del suolo che avvenivano in tempi ragionevolmente limitati per poter essere monitorati. Oggi abbiamo Ispra che ci aggiorna annualmente, non arriviamo neanche noi a sperare tanto che ci fosse un aggiornamento annuale sui dati del consumo di suolo, e lo step 2, l'inclusione della rete nazionale, quindi delle regioni, è uno step molto importante. Nel rapporto che viene presentato oggi, il contributo delle regioni è visibile, percepibile, ho atteso molto a lungo di avere dati confrontabili tra tutte le regioni italiane, per te, d'essere una descrizione del fenomeno. E quindi diciamo, quello è un obiettivo in qualche modo raggiunto, noi continuiamo a fare il mestiere del centro di ricerca del consumo di suolo, nella logica di quella comunità di pratiche di cui ha parlato prima Pasqui, perché introdurre il termine suolo anche in una sede come il Politecnico ha permesso di allargare gli orizzonti, questo è il dato di realtà. Abbiamo smesso di guardare all'urbanistica, come cittadini, come comitati, come associazioni, come una disciplina un po' autoreferenziale, come era in passato, e il tema del consumo di suolo è un tema che ha coinvolto esperti e competenze di varie discipline, chimico, fisiche, biologiche, pedologiche, agronomiche, climatologiche anche, il tema del clima è rilevante. Quindi io credo che sia stato un risultato importante. Dieci anni dopo però siamo ancora a dire, ragazzi, adesso che conosciamo, bene o male, lo vediamo nei dati che vengono pubblicati, il fenomeno, ne conosciamo la sua progressione, ne conosciamo la sua aggressività e virulenza. Ricordo che il tema del consumo di suolo è collocato dall'Atlante del Suolo, pubblicato dalla Global Soil Partnership insieme alla FAO, per quanto riguarda il continente europeo, tra le tre maggiori minacce che riguardano il suolo in Europa. Le altre due sono la perdita di sostanza organica e la contaminazione dei suoli. E noi in questo rapporto affrontiamo le minacce complessive al suolo, che poi hanno delle attinenze anche con le scelte che hanno a che fare con la pianificazione territoriale. Cito soltanto il caso della contaminazione. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché in Europa, quando si parla di inquinamento dell'aria, tutti sappiamo che da Bristol fino a Malta ci sono dei parametri accettati universalmente su che cosa deve essere la contaminazione dell'aria. Per cui quando si superano i famosi 40-50 microgrammi sul metro cubo di polveri sottili, si accende la luce rossa. Perché sul suolo non esiste una codificazione uniforme? Perché per esempio i livelli di contaminanti che vengono ritenuti tollerabili in Austria, per quanto riguarda le sostanze organiche persistenti, di ossine e cose di questo genere, sono di un milione di volte più elevati rispetto a quelle che vengono ritenuti tollerabili in Italia. Perché? Perché la legislazione spagnola affronta il tema della contaminazione del suolo agricolo, la legislazione tedesca o italiana non la affrontano per niente? Perché se io faccio lo sviluppatore immobiliare e voglio sviluppare un terreno ex industriale, vado a svilupparlo dove le legislazioni sulla contaminazione del suolo sono più permissive e lascio i siti contaminati nei paesi che invece hanno legislazioni più restrittive ancora contaminati. Perché poi bisogna anche sapere usare le norme perché uno usa il principio di precauzione ed è sacrosanto, ma deve anche sapere che usare il principio di precauzione come una clava significa che poi si creano delle condizioni irrealizzabili, per esempio, per fare la rigenerazione di aree industriali dismesse. Quindi il problema è avere norme comuni, perché se no, perché in tutti i campi l'Europa ci dice che non si deve fare dumping ambientale e invece sul suolo si può fare? Posso decidere dove localizzare i miei investimenti immobiliari, anche in funzione della diversità di legislazioni sul suolo che ci sono nei diversi paesi membri. Non facciamo parte di una stessa unione, lo cito il tema della contaminazione perché è collaterale, ma a mio avviso è molto rilevante in quanto appunto major threat, maggiore minaccia. E anche una pubblicazione che mi è capitata proprio ieri, ma appena uscita, del direttorato sulle politiche strutturali e di coesione dell'Unione Europea, ci ricorda che le maggiori minacce da un punto di vista globale per quanto riguarda l'ambiente e il suolo europeo riguardano su due aspetti tematiche che forse interessano maggiormente i nostri vicini del centro e del nord Europa, che sono la degradazione dei suoli organici, quindi la perdita dei torbiere e la perdita dei sistemi pascolativi e forestali. Attenzione, l'abbiamo sempre sottovalutato, ma le emissioni di anidride carbonica derivanti dalla degradazione di sostanze organiche nei suoli organici sono pesantissime, collocano l'Europa tra il secondo emettitore globale di CO2 legato alla degradazione di suoli organici. Quindi non c'entra niente col consumo di suolo, ma ci dice quale sia la dimensione ambientale del tema suolo. Noi siamo il secondo al mondo, dopo l'Indonesia, prima della Russia, in quanto emettitori di CO2 legato a pratiche di trasformazione di suoli organici, soprattutto quelle di climi tipicamente freddi, dove sono presenti i suoli di torbiera. E la terza minaccia indicata dal direttorato sulle politiche di coesioni strutturali è proprio quella della perdita di terre produttive per usi non agricoli. Se guardiamo l'idea, quindi il tema del consumo di suolo è un tema cruciale, non tanto è solo per la dimensione del consumo di suolo su scala globale, ma per la competizione che innesca il consumo di suolo. Il consumo di suolo non compete su qualsiasi suolo, il consumo di suolo compete sui suoli migliori dal punto di vista produttivo agricolo. Suoli che hanno morfologie e giaciture, che li rendono competitivi fra usi urbani, residenziali, industriali, infrastrutturali e usi agricoli. In una comunità di Stati, l'Unione Europea, che oggi, nonostante la sua rilevante dotazione di suoli agricoli, anche intensamente coltivati, è dipendente dall'import di risorse alimentari e zootecniche per il 50% del suo fabbisogno interno. In un'Unione Europea che spende quasi il 40% del proprio budget per le politiche agricole e comunitarie, non occuparsi di suolo è francamente inaccettabile. Utilizzare il principio della sossidiarietà, per cui i temi dell'aria sono competenza transnazionale perché l'aria circola, o i temi dell'acqua sono competenza transnazionale perché il Danubio magari nasce in un paese e ne muore in un altro, e dire che questo principio di sossidiarietà quindi non può escludere la possibilità che ci siano delle politiche comuni sul suolo a livello comunitario, è a mio avviso una grande impostura sostanziale, perché i servizi ecosistemici che vengono resi dal suolo sono servizi ecosistemici che vengono resi all'umanità nel suo complesso. Non dimentichiamoci che il tema della soil degradation è entrato anche nell'agenda mondiale. Sustainable Development Goal delle Nazioni Unite approvate nel 2015 ci richiamano con un obiettivo molto forte, l'obiettivo 15.3, a una sfida che fa tremare i polsi, non al 2050 ma al 2030, il land degradation neutral world, cioè addirittura, cioè si dice in un mondo che oggi ha suoli degradati su un terzo della propria superficie utilizzabile, la fine agricola, noi da qui al 2030 dobbiamo arrestare e successivamente invertire i processi di degradazione a livello globale e il consumo di suolo fa parte dei processi di degradazione, anzi è probabilmente uno dei peggiori insieme alla desertificazione, visto che è una trasformazione sostanzialmente irreversibile. Ma noi abbiamo bisogno di una direttiva europea soprattutto per parlare un linguaggio comune, per evitare che succeda quello che sta succedendo, il rapporto del centro di ricerca sul consumo di suolo dà conto di uno studio che è stato commissionato dalla stessa Commissione europea, di una visione ad ampio raggio di quello che sta succedendo negli Stati membri e dà conto del fatto che ogni Stato membro legifera per conto suo e in molti casi non legifera affatto sulla materia del suolo e sulla materia del consumo di suolo. Ma noi abbiamo bisogno di codici comuni perché l'entrata di norme che si basano su definizioni che vengono improvvisate in ogni regione, in ogni Stato, non parlare un linguaggio comune è un problema. L'abbiamo riscontrato anche qua nella nostra piccola Lombardia, ma lo stiamo verificando anche in Veneto, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, nelle regioni che stanno legiferando o hanno già legiferato in materia del consumo di suolo. Non intenderci sulle definizioni di base, oltre a essere un problema da un punto di vista del monitorare i cambiamenti, e anche introduce delle variabili impazzite. Abbiamo visto, nella regione Lombardia si è data una legge sul consumo di suolo che di fatto fa salve le previsioni urbanistiche, nel senso che classifica come consumo di suolo soltanto ciò che avverrà dopo che saranno esaurite tutte le previsioni urbanistiche. Quindi io vedo un campo agricolo, ma lì c'è una previsione urbanistica fatta nel 62 che prevedeva che si doveva urbanizzare, non si è mai urbanizzato perché non c'è interesse di mercato, quello è suolo già consumato. Ecco, questa modalità di definire il consumo di suolo fatta assolutamente in modo legittimo perché non c'è né una direttiva europea né una legge nazionale che dica come debba essere definita, ha creato il mostro. Nel senso ha creato il mostro per cui di fatto una legge che doveva impedire il consumo speculativo di suolo, non il consumo per farci legittimamente le funzioni per cui il suolo è preposto, l'uso speculativo, è di fatto servita a cristallizzare previsioni urbanistiche che fino ad allora erano previsioni anche modificabili. Oggi non lo sono più, sono diventati diritto acquisito e questa è la riflessione poi anche sul fatto che diritto acquisito per fare cosa se non c'è il mercato? Diritto acquisito perché evidentemente ci sono dei gruppi finanziari che hanno tutto l'interesse a non perdere degli asset patrimoniali, evidentemente, che magari sono, non so, le aree d'oro di Unicredit, Axeligresti, tanto per citarne una, che sono diritti di carta per edificazione che, auspichiamo, non si realizzeranno mai ma che vengono finanzializzate, che stanno lì in banca. E allora mi viene da dire ma allora la crisi finanziaria ed economica da cui siamo usciti non ci è servita proprio a niente perché c'è solo una cosa peggiore della crisi economica, una crisi economica che non dà delle lezioni che non insegna perché adesso dalla crisi ne stiamo uscendo e il tema è che se non abbiamo appreso nulla da questa crisi, se cristallizziamo diritti edificatori in nome di processi che stanno nella finanza ma non stanno nella domanda di mercato probabilmente usciremo con una riesplosione del consumo di suolo e le avvisaglie noi con l'associazione ambientalista non ancora nei dati ma nella nostra esperienza del territorio le stiamo già registrando, le stiamo già vedendo, le stiamo già segnalando, ci segnalava in particolare Barbara Meggetto che mi ha preceduto il caso dell'e-commerce per molto tempo ci siamo illusi che con la distribuzione digitale magari finisse il profluio di centri commerciali che atterravano sul nostro territorio infatti è finito, non è neanche finito quella roba lì ma arriva i centri logistici per l'e-commerce e quelli sono per molti aspetti anche più invadenti da un punto di vista dell'occupazione di spazio per di più sono dei luoghi non vissuti di cui quindi spesso si fa presto a non percepirne l'esistenza sono degli angoli prima c'era adesso non c'è più la campagna ma è un luogo lontano dalla vita lontana dalla nostra esperienza quindi sono ancora più insidiosi quindi oggi e devo anche registrare come segnale questa volta politico il fatto che nella vicenda del consumo di suolo e della sua regolamentazione l'esperienza che abbiamo avuto in Lombardia è stata un'esperienza per me mortificante è stata mortificante vedere il ruolo dei comuni che noi spesso abbiamo difeso anche un ruolo fondamentale di presidio del territorio vedere il ruolo dei comuni atteggiarsi sostanzialmente nella difesa di quei diritti urbanistici in qualche modo acquisiti l'abbiamo visto nel come è stata portata l'ultima modifica alla legge regionale poi l'assessore regionale ha buon gioco di dire certo se è una legge perché paradossalmente avevamo i comuni che chiedevano di cristallizzare quei diritti e i costruttori che dicevano di no i costruttori che dicevano no abbiamo problemi di ricollocazione del dismesso cosa create nuove possibilità edificatorie in qualche modo visibili a noi come settore industriale delle costruzioni questa roba ci danneggia fondamentalmente innesca delle dinamiche deflattive e l'assessore regionale ha avuto troppo buon gioco nel poter dire ah ma se questa legge non piace né agli ambientalisti né agli costruttori vuol dire che abbiamo fatto un buon compromesso abbiamo fatto una buona legge no non hai fatto una buona legge perché si dà il caso che in questo momento forse può anche essere che l'interesse dei costruttori di quelli che fanno l'economia delle costruzioni e degli ambientalisti possano anche coincidere nel dirsi che oggi la grande sfida della riqualificazione urbana è una sfida anche di potente significato economico oltre che ambientali poi non è che dobbiamo sempre andare a bracetto con i costruttori ma forse questa sfida è data sta nell'aspettativa del mondo economico e ai noi dobbiamo registrare che sono state proprio le istituzioni più vicine ai cittadini cioè i sindaci comuni a osteggiare questo passaggio ecco io mi fermo perché ho già sforato il tempo però ecco volevo darvi questo come segnale oggi noi abbiamo bisogno la consapevolezza ce l'abbiamo l'abbiamo acquisita la stampa ne ha parlato di consumo di suolo quando si parla di dati su consumo di suolo escono pubblicazioni non possiamo più dire che non ci sia awareness rispetto a questo tema le istituzioni sovranazionali ne parlano le Nazioni Unite le hanno messe al centro delle loro strategie quindi non stiamo più parlando di un tema marginale c'è anche una consapevolezza di quanto sia fondamentale preservare il suolo per nutrire il pianeta abbiamo fatto anche un expo su questo tema ed è un tema non voglio dire di una certa rilevanza comunque lo vogliamo vedere quello che ora manca è passare dalla consapevolezza dalla contezza delle grandezze che ormai abbiamo ripeto credo che questo studio di Ispra e il nostro rapporto del CRCS completino abbastanza un quadro delle letture sicuramente a livello nazionale passare a un quadro codificato di regole in cui che valgano per tutti che valgano per tutti sicuramente all'interno di una di un'unione europea che voglia dirsi tale che voglia condividere un sistema di regole pari per tutti i suoi cittadini ma valgano anche all'interno dei paesi e dei singoli stati membri e delle comunità territoriali e locali noi abbiamo bisogno quindi di avere principi comuni l'Italia peraltro si era mossa con un certo anticipo nel promuovere un'iniziativa legislativa in tal senso e ai noi ancora oggi dopo un po' di rimpalli sappiamo che la proposta legislativa sul suolo è ferma al senato da ormai più di 400 giorni anche questo ritengo che sia inaccettabile ma comunque sia i codici con cui si parla di suolo e di tutela devono essere ovviamente digeriti da una comunità scientifica che anche essa deve parlare in modo omogeneo in qualche modo in modo convenzionalmente omogenei ma devono essere soprattutto acquisiti dalla politica per questo lo strumento della direttiva europea è irrinunciabile non si dà una politica ambientale sul suolo che non sia contenuta all'interno di una strategia vincolante definita da una direttiva europea ed è questo il motivo per cui noi abbiamo lanciato un'iniziativa di cittadini europei proprio per sollecitare l'istituzione europea a muoversi in questo senso è un vuoto è un buco nella legislazione ambientale europea ricordiamoci che l'unione europea è stata a lungo soprattutto in passato devo dire una stella polare a livello globale del diritto ambientale ha insegnato al mondo come si fa il diritto ambientale vogliamo che continui a insegnarlo e che non prenda lezioni da altri se poi ci sono da prendere lezioni ben volentieri se la Cina saprà spiegarci meglio come si fa il diritto ambientale non mi stupirei che ciò avvenisse nei prossimi anni ma per quanto ci riguarda per quanto compete a noi come cittadini europei noi vogliamo che sia che l'unione europea continui a guidare il cambiamento credo che qua dentro che che ne dica Juncker ci sia anche un pezzo della competitività europea essere competitivi e anche essere capaci di guidare il cambiamento e questo lo si fa oggi anche e soprattutto nelle politiche ambientali per questo spero che tutti voi abbiate già firmato la petizione People for Soil ma se non l'avete ancora fatto potete andare sul vostro smartphone oppure firmare al banchetto fuori grazie 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 a Damiano Di Simine che ci ha ricordato quanto sul tema delle misure della conoscenza del consumo di suolo si è fatto in questi anni quanto siamo riusciti ognuno gli enti gli attori che sono oggi qui presenti a portare questo tema nel dibattito anche all'interno della pianificazione del governo del territorio manca certamente però ancora la dimensione delle politiche delle leggi delle norme che per quanto diverse regioni ne parleremo nel pomeriggio hanno delle leggi che mirano a contenere il consumo di suolo le diversità le criticità ancora rimangono molto molto alte a partire appunto dalla mancanza di una direttiva europea che veniva segnalata ecco sul tema delle misure ritorniamo della conoscenza si apre la presentazione dei tre rapporti il rapporto nazionale di Ispra con Michele Munafo a cui lascio la parola ci ha raggiunto anche Carmelo Torre docente del Politecnico di Bari che ha curato insieme al centro di ricerca sui consumi di suolo e al laboratorio Mito con Sandro Bonifazi il rapporto sul consumo di suolo in Puglia che verrà presentato insieme a questi altri due invece di livello nazionale Michele Munafo grazie a tutti